Nel quarto giorno si contano più di 900 israeliani uccisi, almeno 830 morti palestinesi, migliaia feriti da entrambe le parti. Hamas continua a lanciare razzi da Gaza mentre l'esercito israeliano intensifica i bombardamenti e dopo aver ripreso il controllo sul confine ha annunciato l'assedio sulla striscia, un'azione proibita dal diritto internazionale. Sale l'attenzione anche al confine setentrionale con il Libano, col lancio incrociato di missili tra Israele e Sbolla. La guida suprema iraniana ha negato il coinvolgimento del lente negli attacchi. Centinaia di cittadini europei sono stati rimpatriati con voli d'emergenza organizzati dai governi. Mancano all'appello due cittadini di nazionalità italiana. Secondo il ministro degli esteri Antonio Tajani potrebbero essere stati presi come ostaggi.